Tifosi Paolo un saluto da Leonardo Andrini, il video post partita per quanto riguarda Fiorentina a Crotoni 2 a 1 Siamo tornati alla vittoria fondamentale dopo la batosta subita domenica nel lunch match Domenica scorsa contro il Napoli per 6 a 0 Ma prima vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di lasciare un like ma soprattutto di lasciare un commento E anche di seguire la mia pagina Instagram Andrini underscore che è il trattino basso Leonardo Quindi Andrini underscore Leonardo e poi la pagina sempre forza viola per restare assolutamente aggiornati Per quanto concerne appunto news e grafiche per quanto riguarda la Fiorentina anche in questo momento di calcio a mercato Ci ho detto ragazzi ve lo dico sinceramente oggi contava vincere Oggi non importava il bel gioco perché non c'è stato Oggi dovevamo trovare tre punti, li abbiamo trovati contro un avversario ultimo in classifica E se l'ultimo motivo ci sarà, è stata una bella partita? No, mi è piaciuto molto di più il primo tempo della Fiorentina rispetto al secondo Secondo è stato un calo abbastanza preoccupante Non mi sono piaciute più di tanto le scelte nei cambi a parte di Prandelli Perché togliere Igor che era munito per Martina e Squarta al 69esimo ci può stare Anche se insomma cambiare la difesa in quella maniera a partita in corso non era l'ideale Ma la cosa ancora più strana è stato il cambio di Dujan Vlaovic a favore di Kwame Kwame, io ve lo dico sinceramente, a me fa tenerezza A me fa tenerezza e non so onestamente cosa dire I numeri magari questo ragazzo ce li può anche avere ma tecnicamente ha dei limiti incredibili Incredibili veramente perché questo dovrebbe stare due o tre ore di giorno con un bel pallone al muro Come si faceva quando si era piccini perché sinceramente io un giocatore con dei limiti tecnici così grossi in Serie A Non lo conosco, ecco non lo conosco Che dirvi poi appunto, primo tempo buono, secondo tempo assolutamente in netto calo Un buon crotone nel secondo tempo è partito subito forte E' un bel gol di Simi ma dove era l'Uruguaccio con Caceres in occasione del gol ma dove era tutta la difesa Io ragazzi continuiamo pure con questa difesa a tre Se no sembra che ce l'abbia sul personale Però non mi sembra comunque che dia questi grandissimi risultati E non mi sembra neanche che a livello di sicurezza difensiva si sia migliorati molto Perché comunque si subisce gol, abbiamo subito gol anche oggi E comunque hai giocato una partita molto normale Quindi vinci ma non convinci ma a me non mi interessava di convincere Io dovevo vincere oggi per trovare questi tre punti E soprattutto per arrivare alla sfida di venerdì prossimo contro il Toro Partita molto difficile, altro scontro salvezza Con un risultato migliore di quanto uno potesse aspettarsi Per cui che dirvi, nel complesso sono contento Mi è piaciuta molto la prestazione di Jack e Bonaventura Il centro campo ha giocato molto bene Non ho sinceramente niente da dire Molto bene Vlaovic, bellissimo L'assiette di Frank e Ribery a Vlaovic Un'azione meravigliosa, tutto di prima Castravilli, Ribery e Vlaovic Dinanzi a noi avevamo un avversario modesto Ma che comunque ragazzi nel finale ci ha trotto le scatole e non poco Perché nel finale il crotone ci ha dato veramente molto fastidio E fino all'ultimo secondo e l'ultimo minuto di recupero ne andate i quattro Icini Insomma c'era paura di poter anche subire un clamoroso pareggio Che avrebbe avuto del clamoroso Ma visto il passato mi viene in mente per esempio Spezza-Fiorentina 2-0-2-2 Poteva succedere di tutto Quindi insomma nel complesso va bene così Niente ragazzi io vi saluto Vi auguro una buona serata Un buona domenica domani Vi ricordo come vi ho detto prima di iscrivervi al mio canale Di lasciare un like e di condividere con tutti i tifosi Viola da Ranare Danzini è tutto Un abbraccio sempre e solo forza viola Viola da Ranare Danzini è tutto